Stiamo andando a creare con consapevolezza una situazione che determinerà dei disagi e non se ne capisce la ragione. Chiediamo all'amministrazione comunale di valutare con attenzione le ricadute di una scelta che secondo noi è assolutamente da evitare. Lo dicono i consiglieri comunali del PD di Ragusa e il capogruppo Peppe Calabrese con Mario Chiavola a proposito del trasferimento degli uffici dell'anagrafe comunale dalla sede centrale di Palazzo di Città in Corsi Italia alla sede decentrata di via Matteotti, un tempo biblioteca comunale. I locali sono stati ristrutturati, ci mancherebbe, affermano Calabrese e Chiavola, ma da qui a dire che la funzionalità possa essere dalla parte dei cittadini ce ne corre. Infatti, da che mondo è mondo? La presenza degli uffici anagrafici nella sede centrale del comune ha avuto ragione di essere anche perché limitrofi alla prefettura. Tra l'altro, qui a Palazzo dell'Aquila ci sono, continuano, degli spazi esterni fruibili e coperti che l'utenza trova molto utili, cosa che invece non accadrebbe dall'altra parte. Tra l'altro, in via Matteotti saremmo lontani pure dal parcheggio a pagamento che sorge proprio di fronte a Palazzo di Città e che rappresenta una valvola di sfogo per tutti coloro che devono espletare le proprie procedure in seno agli uffici dell'anagrafe. E poi, concludono, la domanda che occorre porsi è che cosa deve farci l'amministrazione comunale con gli uffici del piano terra di Palazzo dell'Aquila che si svuoteranno. Che senso avrebbe tutto questo? Quale logica seguirebbe? Domande a cui speriamo che qualcuno trovi risposta.